Dispiace davvero che quello che avrebbe potuto rivelarsi alla stregua di un intervento qualificante per onorare i caduti si sia trasformato nell'ennesimo atto testimonante all'approssimazione con cui l'amministrazione guidata dai Cinque Stelle gestisce la città. Lo afferma il capogruppo del PD al Consiglio Comune di Ragusa, Mario D'Asta, a proposito dei lavori di realizzazione del sacrario militare nel cimitero centrale e che sarà inaugurato nei prossimi giorni. Il progetto, approvato anche dal Ministero della Difesa, era stato messo a disposizione dei tecnici dell'amministrazione comunale. Gli interventi per la realizzazione di strutture prefabricate su un'area estesa complessivamente 250 metri quadrati sarebbero dovuti durare complessivamente 90 giorni. Lavori che hanno preso il via nel giugno 2017 e se ne vedrà la luce, dice D'Asta, soltanto nella seconda decada di aprile. Ma il problema principale è un altro, dice D'Asta, stando a quanto è possibile approvare, infatti, le previsioni progettuali iniziali, così come indicate dagli atti rappresenta l'Associazione Nazionale Marina d'Italia, Salvatore Rosa, sono state completamente stravolte e non si capisce bene il motivo. E si va di bene che non si tratta di aggiustamenti dettati magari dalla necessità di assicurare una maggiore funzionalità, ma di veri e propri cambiamenti di indirizzo che hanno finito con lo snaturare l'intero progetto iniziale del Sacrario. L'amministrazione comunale, che conclude, D'Asta ha trasformato in pratica quella che avrebbe dovuto essere un'occasione importante per rendere onore ai caduti nell'ennesima fonte di polemiche.